Attenderemo il verbale, ma stando alle parole dell'assessore Veri è andata esattamente come avevamo previsto. Il Ministero non ha potuto valutare la rete ospedaliera perché non erano state inviate le tabelle, poi in grave ritardo, appena 48 ore prima del tavolo di monitoraggio, queste sono state inviate, ma non sono state appunto valutate. E quanto abbiamo già denunciato? Sono in grave ritardo su tutto? Innanzitutto rischiamo addirittura di avvederci approvata il programma sanitario, il programma operativo, nel 2020 per il 2019. Nel frattempo i contratti con i privati non sono sottoscritti, quelli del 2019 siamo ormai al 2020, i fondi per quanto riguarda i nuovi ospedali sono fermi, le assunzioni sono ferme, la rete ospedaliera è ferma, il piano sanitario è fermo. Io penso che tutto questo immobilismo nasca dal tradimento degli impegni elettorali. Non sanno come uscirne perché non hanno il coraggio di dire la verità e allora si galleggia, si inviano in ritardo le carte, non si passa per il Consiglio regionale, si omette di dire la verità e si costituiscono purtroppo anche i primi problemi legati a un possibile disavanzo e voglio proprio capire cosa scriveranno gli uffici del Ministero per quanto riguarda questo possibile deficit. non vorrei che debbano mettere le mani nelle tasche dei cittadini. È molto grave questo immobilismo che sta caratterizzando ormai un anno di mancata programmazione in sanità.